Nella puntata precedente abbiamo visto manga Biaschika alle prese con il suo inconscio per andare alle origini del suo trauma con il terribile Spatafora Ok manga, andiamo ancora più indietro Ci parli del suo primo giorno di scuola Maestra, maestra, lo vede? Lo vede chi? È cattivo, mi ha rubato il plutonio, adesso come faccio io merenda? Ma lo vede chi? Mi dica il nome Lui, è cattivo Me lo dica No Che fa, mi sputa io, la boggio, signorina No, non volevo sputarla, è vero Ma allora io metto la nota, il registro, dove è il registro? No, lo dico, lo dico Lo dica No, non volevo sputarla Taoletto, taoletto, taoletto Taoletto No, non volevo sputarla